Si allarga in Europa lo scandalo della carne di cavallo spacciata come bovina. A Bruxelles oggi è tempo di riunione d'urgenza per fare il punto sulla maxi-truffa dopo che le prime analisi hanno escluso rischi per la salute. Chiusi in Gran Bretagna un macello e un'azienda, mentre i controlli allargati anche a prodotti a base di pollo e maiale continuano a tappeto, non sempre ben accetti. È assolutamente scioccante aver riscontrato una tale pratica in Gran Bretagna. Si tratta del primo caso, stiamo seguendo la vicenda con tutto il potere investigativo di cui è dotata l'Agenzia per le Regole Alimentari. Le tracce dei diversi passaggi portano ai macelli rumeni, ma i produttori locali negano qualsiasi frode nell'etichettatura della loro carne equina. Nel corso del 2012 Carmo Limpa ha effettuato tre esportazioni di carne equina in Olanda, vale a dire tre camion e 60 tonnellate di carne in tutto. Questa carne è stata venduta come carne di cavallo, a un prezzo che indica forte e chiaro che si tratta di carne di cavallo. Il nostro partner ha chiesto e ricevuto con tutti i documenti necessari carne di cavallo. Dopo le lasagne Findus, anche nei prodotti della francese Picard, sono state trovate tracce di carne di cavallo e Parigi ha aperto un'inchiesta per truffa.